Il cane incidentato che abbiamo chiamato Angelo non ce l'ha fatta, stanotte è acceduto, purtroppo l'emorragia sia in ambito toracico che addominale non si è riuscita a tenerla sotto controllo. Tieni conto che all'ecografia c'era anche la rottura della milza, quindi l'incidente è stato abbastanza grave, anche se in un primo momento sembrava potesse farcela. È stato assistito fino alla fine, abbiamo provato, però purtroppo sono casi critici che dobbiamo comunque accettarli. Mi dispiace. Grazie.